Noia, aggressività, incoscienza, brutalità, voglia morbosa di protagonismo. Anno tra i 13 e 16 anni di età, i componenti della baby gang che avvigevano era diventata il tormento di alcuni coetanei ritenuti più deboli, oppressi da mortificazioni, maltrattamenti e violenze fisiche che riprendevano con i cellulari per poi diffonderle attraverso i social media come dei trofei da mostrare con sprezzante orgoglio. Quattro i minori arrestati dai carabinieri con l'accusa di reati che vanno dal concorso in violenza sessuale alla riduzione schiavitù, dalla pornografia minorile alla violenza privata aggravata dal procurato Stato di incapacità alla vittima. La prima cosa che colpisce è la totale assente di coscienza. Infatti quando i carabinieri sono andati per arrestarli non si rendevano conto del perché. Tra le loro bravate più vergognose, quella in cui avevano fatto ubriacare la vittima, l'avevano poi legata con una catena e infine portata a guinzaglio per le strade come un cane. In un'altra orribile impresa, il malcapitato era stato appeso a testa in giù da un ponte e sottoposto più volte a subire violenze sessuali. Allora ecco che la mia identità si realizza pubblicando qualcosa nei social media, in queste strutture e oltretutto utilizzando per affermarsi, perché la propria immagine esca, si imponga nel mercato enorme dei social network. Io utilizzo la forma più barbara, arcaica, che è la forma primitiva, primordiale di aggressività fondata sulla violenza fisica nel confronto della realtà, che è proprio la forma di potere, potremmo definire più arcaico, più barbaro.